Mose è la più grande opera pubblica realizzata in Italia. Al di là degli arresti e dello scandalo scoppiato l'estate scorsa, sta andando avanti. Oggi controlli antimafia nei cantieri del Lido. I cordoni della Borsa dello Stato si sono ristretti, ma il lavoro procede. Milva Andrioli. Per i 50 anni dell'acqua granda, il 6 novembre del 2016, il Mose non sarà in funzione, ma se il rullino di marcia non subirà intoppi, la data sarà comunque vicina. Consegna del sistema di dighe bombili nel 2017, in funzione per davvero con la stagione delle acque alte, diciamo novembre 2017. Un contributo sulla strada della realizzazione della più grande opera pubblica è arrivata dalla legge di stabilità, che spalma su 4 anni 401 milioni di euro. Al Consorzio Venezia Nuova incrociano le dita, che in Cipe confermi. Le aziende del Consorzio, concessionario dello Stato per la costruzione dell'opera, sono esposte per 800 milioni e pagano gli interessi. Difetto tutto italiano e ben lo sanno tutti gli imprenditori che lavorano con la pubblica amministrazione. A frenare il Mose non sarà certo la bomba di 500 libre rinvenuta davanti all'isola di Sant'Andrea, ma altri minevaganti legate alle gare europee bandite per le paratie e per gli impianti, dall'antincendio all'aria condizionata. E agli eventuali ricorsi alla giustizia amministrativa. Ne sa qualcosa la Fincantieri, che dopo il ricorso al TAR ha vinto la gara per le paratie della Bocca di Porto al Lido di Venezia. Pubblicazione di bandi di gare, commissioni, decisioni, aggiudicazioni, sperando che tutto vada per il verso giusto, anche se a Venezia come a Genova per molti manufatti è entrato in azione il TAR. Basti ricordare il travaglio per il Teatro La Fenice. Se il 2017 sarà l'anno del Mose, dalla posa della prima pietra saranno passati 14 anni. Costo del Mose, chiavi in mano, 5 miliardi e 493 milioni di euro.